A presto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, ti leggo un ultimo inedito così apriamo proprio... Io ho trovato... Io ho trovato... Io ho trovato... Io ho trovato... Forse mi dirà che è tutto nel cielo che rischiara, nessun arcano, ma una vita che in segreto aiuta l'unione tra reminiscenze. Grazie a tutti. Allora, sicuramente tutti conoscete Michela Zanarella... Con la quale... Non è detto. Non è detto. E chi non la conosce? Beh, Castagna non ti conosceva. No. Esattamente. 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 E' un ottimo, ma è vero, è vero. Quindi ho detto una cosa sbagliata. Vabbè, io con Michela ho un'amicizia particolare, una stima particolare e vorrei che tu raccontassi il tuo incontro con la poesia, il tuo incontro quasi mistico, perché questa poesia era quasi mistica e il tuo incontro con la poesia è quasi mistico, no? E' quasi sovrannaturale, direi. Beh, sì, è un incontro molto particolare, perché ho iniziato a scrivere in un modo, forse che neanche io mi aspettavo, quando ho avuto questo incontro con la scrittura in versi. E tutto è iniziato dopo un incidente stradale a cui sono sopravvissuta e non avevo mai scritto poesia prima di allora. Anzi, era qualcosa forse molto lontana da me, visto che comunque la mia vita scorreva tra le mura di un'azienda, quindi lavoravo... Un'azienda? Ha anche nulla a che fare con la poesia? Sì, lavoravo in un mattatore, in un ambiente forse non proprio del tutto femminile, anzi prettamente maschile, quindi la mia vita era in un ambiente di fabbrica, diciamo, dove comunque ero amministrativa, quindi la mia attività era prettamente commerciale, quindi la poesia era qualcosa per me disconosciuto, Anche se sin da bambina ho sempre amato leggere moltissimo, quindi ho dei ricordi legati anche al mio rapporto con l'infanzia, con mio padre, che forse è stato un po', diciamo, l'apripista con l'amore per la lettura, perché da quando ero piccolissima mi regalava tantissimi libri da leggere. E penso che questo sia un gesto molto bello da parte di un genitore che spera che il futuro della figlia magari possa essere diverso dal suo, comunque avendo avuto un'infanzia molto difficile, essendo cresciuto senza padre e in collegio, quindi una vita non facile, Quindi ha sempre desiderato per me che comunque mi dedicassi alla lettura e che crescessi con una consapevolezza dell'amore verso i libri e del contenuto dei libri. Poi dopo questo incidente... E sei stata in coma. Sì, ho vissuto questa esperienza che mi ha completamente cambiato la vita. Devo dire che mi ritengo fortunata perché sono qui a parlarne e la poesia è una fantastica compagna di viaggio che da più di 15 anni ormai mi accompagna. Dopo tante pubblicazioni sia sul territorio nazionale che all'estero, l'ultima raccolta fortunatamente viaggia da sola in lingua araba e devo dire che sono contenta perché uscirà a breve anche una pubblicazione in lingua spagnola in Colombia. Suona particolarmente bene la tua poesia in spagnolo. Sì, devo dire che lo spagnolo si sposa molto bene e si avvicina anche alle mie origini venete e al mio dialetto veneto, quindi sono particolarmente felice della lingua spagnola perché comunque è la cadenza del mio dialetto, quindi si avvicina molto anche al mio parlato familiare. Comunque io parlo il dialetto e ci tengo molto al dialetto perché lo considero comunque una lingua vera e propria. Tu non hai scritto nulla il dialetto? Sì, ho scritto. Per scrivere in dialetto ci vuole una competenza, una conoscenza comunque. Anche una musicalità completamente diversa. Sì, sicuramente mi piacerebbe approfondire e credo che lo farò perché una raccolta tutta in dialetto veneto mi piacerebbe molto. C'è poi il dialetto padovano. Sì, che tra l'altro. E poi ci sono tante sfumature da zona a zona, quindi è complicatissimo. È complicatissimo e poi come ho sempre detto io le poesie di Michela si leggono da sole, cioè sono già musicali, c'è già la musica dentro. Sì. A 365... 66 io direi. Ma lei ha detto una cosa importante, lei è pubblicata ma non è solo pubblicata e anche? L'ha presentata. E anche? Fluri? Fluri premiata. Fluri premiata. No, diciamo questa è una vecchia storia. Una vecchia storia è una vecchia battuta che facciamo sempre. Ma appunto è vera. È verissima, però insomma ogni volta aggiungiamo fluri premiata. E appunto a te quale artista del cancro, quale sei, ti chiedo con questo racconto molto bello che hai fatto di tuo padre che io in realtà non conoscevo. Nonostante noi abbiamo condiviso notti e notti a Radio Impegno in cui veramente stavo a raccontare di tutto, noi facevamo delle notti a Radio Impegno che duravano sette ore, ne abbiamo fatte tante, però questa cosa di tuo padre è molto bella e non la sapevo. E ti chiedo se per te la poesia è più madre o più padre? Bella domanda. È la stessa domanda in riferimento alla fede, se Dio è maschile o femminile. Secondo me c'è un po' di femminile e maschile in tutto, in ognuno di noi. E quindi non faccio distinzioni di genere, nel senso che penso che ci sia un'unione tra le due realtà. Beh, non per niente è citato Dio e Donna che è insomma un monologo che abbiamo fatto per anni tragicamente rosso. Stiamo andando ancora avanti. Stiamo andando ancora avanti, per anni riprenderemo. Riprenderemo un monologo che Michela ha scritto per me e nel quale Giuseppe mi ha diretto sulla violenza sulle donne. C'è anche un libro che contiene, anche un monologo che spero di ripubblicare il libro in versione aggiornata. E infatti oggi è 4 dicembre, siamo abbastanza vicini alla data della giornata contrarenza sulle donne. Io ti chiedo, secondo te qual è la strada ancora che le donne, siamo tante artiste donne oggi, lì c'è l'angoletto maschile, l'androceola, cioè qua c'è il gineceo. No, vabbè, rotto. Qual è la strada secondo te che le artiste donne ancora devono percorrere? Secondo me non si finisce mai di promuovere, di sensibilizzare su questo argomento. Io direi sensibilizzare principalmente. Ma quello che secondo me manca ancora, che vedo che manca, soprattutto tra donne artiste, è che non tutte sono in legame di condivisione. Quindi di solito c'è anche una sorta di conflitto. Invece io penso che per costruire un percorso che parta prima da noi, perché se non analizziamo prima noi stessi, è difficile poi dare uno sguardo esterno a quello che ci circonda. Perché se non ci guardiamo dentro per prima, è inutile anche lavorare su questo argomento. Quindi secondo me c'è ancora molta strada da fare perché lo sappiamo bene che in ogni ambiente è sempre difficile trovare collaborazioni che durino nel tempo. A parte il nostro caso, che noi lavoriamo da anni insieme. Perché non abbiamo mai avuto nessun tipo di competizione, anzi tutt'altro. Nel senso che il fatto che comunque si parta e non ci si senta mai superiori agli altri. Ecco, questo è il primo tassello su cui lavorare. Cioè il fatto di comunque mettersi allo stesso piano degli altri. Penso che Bruno... All'inizio, quindi proprio all'esordio della nascita, quindi... Da allora, devo dire, l'ho seguito anche non avendo magari la possibilità di essere presente come avrei voluto. Tante cose. Però devo dire che il suo impegno negli anni è sempre rimasto un punto fermo e di riferimento per ognuno di noi. Quindi... Direi, come dicevi tu, giustamente l'impegno deve essere sempre costruttivo, no? Sì. L'impegno deve essere sempre a sostenersi a vicenda e soprattutto a partire da un'accettazione di se stessi, come dicevi giustamente tu. E non, diciamo, in qualche modo di mettere avanti l'ego. Perché purtroppo... Beh, quello è anche... Noi artisti lo sappiamo, l'ego è... Ma a volte è prevale. A volte è prevale, però invece è col merito di un'associazione... Però non è nemmeno una colpa, nel senso che comunque a ognuno di noi ovviamente fa piacere, no? Avere un riconoscimento, sentirsi considerato. E' bello, è bello comunque avere anche l'entusiasmo. Nel libro, mettendoci tutto l'impegno e la volontà, si spera di raggiungere sempre qualcosa di importante. Infatti, io direi, visto che abbiamo parlato di associazioni tra amiche e anche nel nostro caso, io direi insomma di chiamare adesso Giuseppe dopo aver fatto un bellissimo aplauso a Michela che è una persona che non la conosceva oggi, che non la conosceva oggi. E' bello, è bello! 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 Grazie a tutti.